Pensa che nasci in un'epoca dove i diritti delle donne erano quasi inesistenti, cresci in un orfanotrofio e nonostante tutto crea uno dei brand della moda più importanti del mondo. Sto parlando di Coco Chanel, una donna ambiziosa, determinata e fortemente indipendente. Una innovatrice che ha rotto più volte gli schemi della moda femminile, creando dei prodotti che sono diventate icone di un'epoca. Vediamo come ha fatto. Ma prima, pubblicità. Questa puntata è offerta da Come guadagnare online in maniera professionale. Il libro scritto da Marco Doria, che sono io, che ti insegna a comprendere bene le dinamiche del guadagno online fatto in maniera professionale, quindi un vero e proprio mestiere e non fuffa. Quindi compralo, vai su Amazon, leggilo e vedrai che sarà una delle letture più importanti sul tema che tu abbia mai affrontato. Te lo garantisco. Ma torniamo alla nostra storia. Il 19 agosto del 1883 nasce Gabrielle Bonheur Chanel, seconda di cinque figli, nata a Samour in Francia. La madre muore purtroppo prematuramente. Il padre, un venditore ambulante, pensa bene di abbandonare lei e gli altri quattro figli in un orfanotrofio. Ed è proprio in un orfanotrofio che Chanel, separata dai fratelli maschi, ovviamente, cresce. Cresce con un'ottica particolare. L'importanza dell'ordine, della disciplina assoluta, attenzione ai dettagli, minimalismo assoluto. E questo chiaramente ha, come dire, creato il suo modo di pensare. Ha sicuramente stato un imprinting decisivo per quello che poi sarà la sua carriera. Siamo arrivati al 1901. Gabrielle ha 18 anni, lascia il convento ed è finalmente libera di esplorare il mondo. La prima cosa che fa è cercarsi un lavoro, questo per avere un'indipendenza. Dobbiamo sapere che Gabrielle era una ragazza molto indipendente, fortemente indipendente, e quindi cerca di trovare il modo di mantenersi in quella Francia dell'epoca che dava, sì, dei diritti alle donne, ma era veramente ancora arretrata rispetto a quelli che sono i tempi moderni. Quindi possiamo immaginarci che una donna che si cerca lavoro da sola, senza un compagno, non sia vista nel migliore dei modi. Comunque trova lavoro come commessa in un negozio di biancheria, Moulin, un piccolo comune francese. Parigi, quindi, era in pieno sviluppo. I primi neon illuminavano le notti, notti nelle quali Chanel intratteneva i clienti cantando nei locali di cabaret. Ovviamente la paga di una commessa non bastava e, chiaramente, per poter far qualcosa di più nella vita, per poter dar sfogo a quell'intraprendenza che aveva innata, doveva avere dei soldi in più. Nel 1910 conosce Etienne Balson, figlio di imprenditori tessili. Lui subito le invita a trasferirsi nella sua dimora, pensate un po', un vero e proprio castello. E in questo periodo Chanel si scopre un genio nella creazione di cappelli, cappelli da donna, che erano richiestissimi all'epoca. E cominciò così a confezionare questi cappelli per delle celebrità o degli aristocratici che frequentavano i teatri. Quindi più le persone vedevano questi cappelli in testa alle persone celebri, più le persone li volevano comprare. Però Balson non voleva investire nella carriera di Coco Chanel, anche se erano amanti, perché era una delle sue amanti. Quindi lui non vedeva un futuro con Chanel, ma piuttosto un divertimento momentaneo. E quindi comunque le permette di confezionare i cappelli a Parigi in uno dei suoi appartamenti. Quindi stai alla larga, fai le cose che devi fare, ma io con te voglio avere solo un rapporto così, effimero, alla giornata. E questa relazione durò poi due anni. E sempre in questo castello incontra il suo grande amore, il grande amore della vita di Chanel, ovvero Boy Capel, un imprenditore di Newcastle che, a differenza di Balson, finanziò direttamente Chanel anticipando gli soldi per aprire la sua prima boutique. Ok? Quindi Chanel è come se ce l'avesse fatta da cantare nei cabaret finalmente ad avere la boutique, cosa che aveva sempre sognato e ardemente desiderato. Chanel era solita riadattare, prendere i vestiti di capella e riadattarli per se stessa. Quindi prendere vestiti maschili e riadattarli alla moda femminile. Così comincia a sperimentare questo nuovo modo di concepire gli abiti da donna che erano sempre visti in stile vittoriano con gonne lunghe e vite strette. Nel 1913 Chanel apre una seconda boutique di moda, offrendo una gamma completa di abbigliamento sportivo e casual. Continua sempre a sperimentare, però vedeva che c'era qualcosa che non andava, doveva differenziarsi, doveva fare qualcosa di più. E quindi decide che in quel momento sarebbe diventata Coco Chanel e non più Gabrielle Chanel. L'origine del nome è piuttosto nebulosa. Esistono diverse supposizioni. Il primo che il soprannome Coco derivi da una canzone popolare che Chanel cantava nei cabaret, chiamata Qui che vu Coco? Chi ha visto Coco? La seconda ipotesi è che sia stata data da alcuni dei suoi amici più intimi, da qualche amante, un soprannome. La terza ipotesi è che sia derivato proprio dal termine francese Coco, che significa gallina, o si può anche intendere come prostituta di lusso. Infatti varie sono le voci che dicono che nel cabaret, piuttosto che sul cantare, intratteneva gli ospiti anche in altro modo, ma rimarranno sempre voci e noi ci atteniamo a divulgare soltanto quelle che possono essere dei racconti o delle supposizioni. Il quarto punto è che Chanel volle veramente sfidare la convenzione sociale, rompere gli schedi, e quindi si diede lei stessa un nome del genere. Che, attenzione, un nome che è geniale nel suo insieme, perché è un'alliterazione che rimane in mente. Quindi Gabrielle Chanel è molto diverso, suona molto diverso da Coco Chanel, che poi sarebbe diventato, come sappiamo tutti, il brand di icona del lusso universalmente riconosciuto ed eterno. Quindi in realtà brava Chanel che hai fatto questo pensiero. Nel 1916 si trasferisce a Biarritz, passa dal semplice negozietto boutique che aveva, a un salone di alta moda, lei comunque diceva ok, adesso è ora di fare il grande salto. Purtroppo però nel 1919 Boy Capel muore in un incidente stradale. Questo si trasforma in un grande periodo di crisi e di dolore per Coco, che era influenzata da lui. E quindi in questo modo subisce un trauma tale da cambiare anche il modo in cui concepiva la moda. Qui si passa al minimalismo assoluto. Nel 1921 Coco Chanel lancia il suo primo profumo, Chanel numero 5, che come sappiamo tutti diventa uno dei profumi più famosi del mondo. Era riuscito in un'impresa titanica, partire da un cappellino, arrivare a creare uno dei profumi che ancora oggi tutti conoscono come uno dei profumi più famosi. Ci sono dei motivi che hanno contribuito allo status di icona di questo profumo. Il primo in assoluto è il design. Si è sempre distinto per essere elegante e raffinato. Coco Chanel era particolarmente attenta all'estetica. E infatti questo flacone disegnato da Philippe Grand era semplice, geometrico e moderno. Cosa che ha contribuito a rimanere ricordato nel tempo. Poi la sponsorizzazione di celebrità. Chanel numero 5 ha guadagnato tanta, tanta notorietà perché Marilyn Monroe a un certo punto ha dichiarato di indossare solo qualche goccia di Chanel numero 5 quando andava a letto. Cosa fantastica che ha contribuito a far esplodere questo brand. Poi chiaramente già Chanel era introdotta nella moda e quindi lei ha cominciato a proporre a tutte le persone che la circondavano assolutamente questo profumo rendendolo chiaramente un profumo di nicchia ma molto pubblicizzato negli ambienti. E poi possiamo dire che era unico. Chanel numero 5 era un profumo rivoluzionario perché introduceva una nuova famiglia olfattiva chiamata Aldeidica che conferivano al profumo una luminosità particolare che lo rendeva unico nel suo genere. E poi chiaramente l'iconicità nel tempo. Chanel numero 5 ha mantenuto popolarità negli anni è diventato proprio simbolo di eleganza e di lusso. Si dice anche che si chiama così, si chiama numero 5 perché era praticamente il quinto campione di profumo che le veniva presentato dai profumieri. Una cosa molto semplice, una curiosità che però non è stata mai appurata. Nel 1925 un altro punto importante nella vita di Coco Chanel lancia Little Black Dress, ovvero piccolo vestito nero che diventa un simbolo di eleganza e stile senza tempo. Il piccolo vestito nero diventa famoso per diversi motivi. Il primo chiaramente l'innovazione del design. Come abbiamo detto, Chanel dopo la morte di Capella era passata un periodo minimalista e quindi ha creato questo abito nero semplice, versatile e senza tempo che poteva adattarsi a diverse occasioni. Quindi ha rivoluzionato il concetto di moda femminile dell'epoca che era solito associare il nero a il lutto oppure alle occasioni diciamo più formali. L'ha trasformato proprio in un simbolo di eleganza e raffinatezza che può essere usato anche in altre occasioni. E poi versatile perché può essere indossato sia di giorno che di sera. E chiaramente la temporalità, il piccolo vestito nero di Chanel è intramontabile e resistente alle tendenze passeggeri della moda proprio perché è semplice. E poi è diventato un'icona soprattutto perché è stato sponsorizzato molto, è esposto molto nel cinema. Ci sono state icone come Audrey Hepburn che hanno reso l'abito molto famoso soprattutto ce lo ricordiamo tutti nel film Colazione da Tiffany ma anche indossato dalla principessa Diana e indossato anche da Kate Moss. Questo però non ha salvato, non ha risparmiato Chanel dalle critiche e le critiche più dure, più importanti sono arrivate proprio dai suoi colleghi stilisti. Il più famoso di tutti fu Christian Dior che negli anni 50 disse ok, il tuo vestito è troppo austero sembra un vestito da suora è stata criticata perché less is more era considerato ok, stiamo sminuendo la donna in questo modo questo vestito non è femminile e appunto Dior riteneva che fosse troppo semplice e minimanista e questo facesse male alla donna che doveva essere vista come elaborata e lussuosa. Però nonostante le critiche di questo buon uomo è diventata un'icona della moda e un capo essenziale nel guardaroba femminile. Siamo nel periodo della seconda guerra mondiale 1939-1945 Chanel prende e chiude tutte le sue attività è stata ampiamente criticata per aver fatta questa scelta perché è stata accusata di opportunismo e di conservazione di aspetti finanziari proprio nel periodo dove il popolo francese aveva bisogno anche di conferme da parte del popolo e lei ha chiuso e si è fatta gli affari suoi anzi, peggio ancora in questo periodo di occupazione nazista ha proprio una relazione con un ufficiale tedesco di alto rango e questa relazione ovviamente ha suscitato un sacco di controversi apertato anche ad accuse di spionaggio anche se non esistono prove concrete che dimostrano questo coinvolgimento di Chanel nella politica la relazione con un ufficiale tedesco ha lasciato un'ombra sulla sua reputazione e che poi tra l'altro venne anche accusata e arrestata per spionaggio e collusione ma mai processata siamo nel 1954 Chanel ha 71 anni e dopo 15 anni presenta una collezione al Salone della Moda di Parigi è il ritorno nel mondo della moda la sua nuova collezione sarà un grande successo è il rilancio del marchio Chanel nel mondo in questo periodo Chanel reinventa anche il suo celebre tailleur eleganza e comfort saranno i tratti distintivi che porteranno questo abito a essere un'altra icona del guardaroba del portfoglio Chanel e questo ritorno fu anche accolto calorosamente dalla critica e dai clienti cosa che non ci si aspettava visto il periodo della guerra e inizia così una nuova era per la Maison Chanel di nuovo leader del fashion è ora di fare qualcosa in più però Coco Chanel non si accontenta e nel 1955 crea la borsetta 2.55 ed è la risposta fashion all'esigenza pratica di avere le mani libere quindi eleganza e praticità l'innovativo design nella pura tradizione Chanel si ispira al guardaroba maschile per dare volume alla sua pochette la stilista prese esempio dalle giacche che gli stalieri indossavano negli ipodromi aveva un effetto matelassé ovvero trapuntato e presentava l'aggiunta di una tracolla che chiaramente era una catenella di metallo che permetteva di tenere le mani libere siamo nel 1971 e all'età di 87 anni purtroppo Coco Chanel muore muore l'icona fondatrice ma non muore il brand che mantiene unicità e prosegue l'ascesa verso una riconoscibilità che possiamo definire eterna Coco Chanel è stata una donna che ha sfidato le regole imposte dagli stilisti dell'epoca che ha sgomitato per ottenere la sua indipendenza e che rimarrà per sempre nella storia della moda se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale attiva la campanellina lascia un like ed un commento ci vediamo alla prossima storia e alla prossima vita di successo ciao ciao